musica 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 non che bellini ben trovate ben trovate ci vediamo qui su il film first light sempre con fetch dobbiamo andare avanti nella storia signori dobbiamo andare avanti ho raccolto 2 lumen per prendere qualche punticino in più ne abbiamo credo 9 no 11 e li andiamo subito a mettere allora è aumentato il 50% non mi interessa voglio mettere questo ne ho solo 3 adesso va bene dunque dov'è? in cima? esatto vediamo cosa ci fanno fare adesso è probabile ah devo aprire e sparare in un secondo shane il tuo uomo respira ancora fa piacere sentire che stai rimediando perchè hanno appena scoperto un altro dei miei ragazzi me ne occupo io mandami le coordinate interessante come sta si sta imparando a usare i poteri da cecchino quello è essere cecchino si è letteralmente messo su un punto e ha sparato forse è qui è così che ha imparato infatti ha detto se funzionerà perché evidentemente era la prima volta e il fatto che deve essere una cosa veloce vuol dire che eeeh vabbè siete un po' tanti non credete ma lì sono gli aculani ah ok mi insegno perchè ride come un maialino perchè sembra spaventato? perchè sembra spaventato? perchè sembra spaventato? qualcosa che non acquadra raggiungi la postazione del cecchino tra l'altro l'ho detto e che se poi tra l'altro ho scoperto questa cosa del neon viola e rosso e blu è una cosa che eeeh sembra la tempo mi pare cioè ho scoperto mi pare di aver letto perchè non non ricordo precisamente eeeh che fosse una cosa dovuta alla temperatura che raggiunge il gas credo oh non non sono sicuro eeeh quantini sbaglio usa il blu quando devi fare il cecchino scendio tirati su di me porta via i tuoi uomini si signora wow sembra di essere tornata quella gang la quel gioco di gang dove che ride come un maialino i ragazzi stanno scappando dal vicolo laterale non li ha notati nessuno gli aculani sono troppo impegnati a sparare a te benissimo se vogliono finire a pezzi sono nel posto giusto ne sono altri due in avvicinamento qui oh oh ah me li fa vedere oh perfetto questa ah se colpisco il punto preciso c'è un'esplosione utile è che faccio la ricarica al focus se no colpo la testa aia sto cominciando a farmi male andiamo? vatti siete scappa ottimo eh se lo troviamo sui video di sorveglianza possiamo seguirlo fino al luogo in cui tengono pregiunti i rubri a volte non sei così male sai vuoi dire che finalmente io farò il cowboy e... i tori sono maschi amico vero oh god sei stato arrostito a dovere vedete vedete andatene va che meglio dunque non so da quanto sia registrando credo da poco aspetta che c'ho una macchinetta qua che mi dà un punto poi da lì è difficile raccogliere sia i lumen che il resto dei cosi per potenziarci ok perché non si vede... come f... ma dai sapete che mi è scappato il pulsante opsiii ah direi di fare quest'altra missione oggi mi sento in forma per registrare anche perché stranamente avevo un bel po' di video arretrati quindi ci avevo già tutto pronto dovevo semplicemente registrare in famous per la scaletta settimanale e tra l'altro dovrei in qualche modo segnare sul canale ah beh voilà quattro punti possiamo prendere qualcosa? non credo si l'assorbimento del 50% del neon si potrebbe essere buono ah no la riserva massima ha fatto questo si vai ehm pronto? io sono Jenny lavoro per... con Shane se ho capito bene devo aiutarti a tracciare un tenente a culano giusto? al telefono possiamo usare le telecamere in città tu trovi i loro ID e io cerco i filmati ti sto mandando le coordinate dell'ultimo avvistamento del nostro uomo i D delle telecamere? scusa ti hai detto di essere? Jenny lavoro per la città e a volte per Shane i D delle telecamere sono come cose di QR ma somiglia tantissima cosa io analizzo i video per cercare il tuo uomo il nostro software per il riconoscimento facciale è qualcosa di incredibile ok ci sono cerca una telecamera si questa scansiona l'ID esaminerò il video ah scusa è molto più tecnologico di qui seguilo useremo le telecamere per capire dove è andato mi spiace ma non posso avviare una scansione globale farei scattare gli allarmi qui al lavoro mh e beh il lavoro beh il lavoro in questa maniera e non vedo le telecamere ok sono il punto verde il punto verde solo il punto verde ci cerchiamo di preciso pare che gli aculani tengono i prigionieri in una specie di rifugio segreto se lo seguiamo ci porterà lì e perchè collabori con Shane? beh tu stai cercando il tuo fratello io ho avuto bisogno di qualcos'altro quando mi chiama gli do sempre una mano ma devo essere molto prudente qui al lavoro e di cosa avevi bisogno? ti consiglio di non ficcare in atto che sto facendo già posso immaginare beh se abbiamo se tu giochi prima merda se tu giochi prima in famous second song e poi questo sei già come andrà a finire tutto il resto allora sappiamo chi è questo tizio è un trafficante di uomini legato agli aculani un trafficante di uomini cioè come di schiavi esatto e credo che sia seguendo quella ragazza oh dai che sta qui madonna quanta tecnologia tra l'altro e allora andalo di qua una qua non ce l'hai? si oh è andato attraverso ecco sta seguendo sta ragazza mmm la faccenda non mi piace la faccenda non mi piace ha cominciato a correre probabilmente probabilmente abbia cercato di girare qui niente dove è andata la tritta è scema perchè è andata la tritta eh qua si è proprio accorta la corso proprio se hai guardato indietro ha cominciato a inseguirla quale scale tra l'altro queste dove vuoi? sembra quasi una scena del crimine è una scena del crimine fidati ok cazzo così a random? ha 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 ucciso quel tipo eh già e questi tengono prigioniero il tuo fratello? si e dove ne andavate questo? corri ragazza corri eh già te l'ho detto io che andava a finire male il nuovo bisogna capire se la ragazza l'ha uccita o semplicemente l'ha rapita ma probabilmente l'abbia rapita che si è nascosto ah vada subito mi ha sparato ok no ancora viva non vedo più di tanto perchè ah l'ha rapita infatti l'hanno presa aspetta la conosce la come ha parlato la conosce un telefono jenny se avessi il telefono di quell'uomo potresti tracciare i tuoi spostamenti certo ma ci vorrà tempo mi servirà una copia della tua zona te la faccio avere dobbiamo salvare il mio fratello e fermare quel bastardi una volta per tutte però la cosa comincia a farsi un tantino seria eh brutte notizie gli aculani hanno teso l'imposcata la mia squadra di ricerca quindi dovrei correre laggiù e sbaragliare quell'idioti in tutina giusto? beh si con immenso piacere dimmi solo dove andare ah e jenny è una grande chiamala abbiamo una pista mmm allora come posso dire la faccenda comincia a puzzarmi ma proprio di brutto 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 proprio e dire puzzarmi di attire poco cazzo un coglione è bella sta cosa dell'impulso credo sia pulato di sotto no ok eh comunque prima del video qui eh comincia a non piacermi perché so dove va credo dove vada a parare tutta questa faccenda comunque mi ricordo di cari mi piace se vi ricordo il video commentate sotto e iscrivetevi al mio canale ci vediamo i prossimi video completi ragazzi vi ricordo un gamepad ma non si può cambiare il mondo bye bye ah il storante Olaf che ah